Siamo qui oggi a Cintanova per consegnare i prodotti che abbiamo raccolto dai nostri produttori. Oltre 12 aziende ci hanno fornito delle specialità che verranno fornite gratuitamente agli operai che stanno attestendo questo spedale. Con la speranza che non serva, ma purtroppo è meglio essere operati e quindi noi abbiamo appena aderito a questa iniziativa perché comunque siamo una parte importante della società e quindi vogliamo portare il nostro prodotto. Io devo ammettere che sono impressionato dalla generosità della popolazione delle Marche. Da tutte le parti, dal nord al sud, ci stanno aiutando per portare avanti questo progetto. È un progetto certamente dedicato alle persone del territorio, ma è un progetto che deve essere un esempio per tutte le altre regioni. E deve essere anche un esempio per le altre regioni la vera generosità e la generosità di cuore della popolazione. Anche l'intervento della Coldiretti che ci ha portato in mangiare, che ha portato quello che poi serve a nutrire i 200 operai che lavorano giorno e notte qua. Quindi la qualità del territorio per noi è importantissima. Molti operai non sono di qua, quindi avranno anche l'occasione di assaggiare quelle che sono le primizie di questo territorio. Ringrazio ancora Coldiretti, ringrazio tutte le imprese che hanno offerto qualcosa. Sicuramente sarà molto apprezzato da tutti i lavoratori di qua. Grazie. Grazie a tutti.